ciao un saluto a tutti vediamo la situazione sul grafico del copper rame questo è il future scadenza luglio 2019 abbiamo una situazione dopo questa candela marubozzo chiarissima di prosecuzione ribassista il trend attualmente chiaramente quindi al ribasso ed è da vedere come questo punto questo minimo relativo sia stato il livello che abbia poi dato il là alla prosecuzione ribassista di fatti vediamo come sia un livello sentito molto chiaramente dai prezzi sul grafico nel senso che avevamo la resistenza ancora resistenza con questa pin bar rottura test e poi di nuovo rottura test e prezzi a scendere quindi è ancora valida tutta questa area di 283 284 per un ipotetico ingresso ribassista sia un eventuale retesta ancora un ulteriore gamba rialzista potrebbe essere una nuova occasione di ingresso di ingresso short il target che potrebbe vedere è in area 260 che è un livello supportivo sicuramente interessante tutta questa area tra i 261 e i 260 eccoci qua l'andiamo proprio a evidenziare sul lungo periodo come un'area supportiva dove i prezzi potrebbero arrivare quindi avere eventualmente in area 283 un ingresso ribassista quindi un ingresso ribassista all'incirca a questo livello consentirebbe di posizionarsi con uno stop sopra i massimi appunto di questa candela che ha dettato l'inizio del ribasso avendo quindi poi un risk reward sicuramente interessante perché questa è la ipotetica parte sul grafico del nostro loss mentre questa è la ipotetica parte del gain e quindi vediamo un risk reward sicuramente favorevoli va sottolineato come questa area sia confermata come area di resistenza anche semplicemente da questa trend line dinamica che vediamo essere stata tantissime volte resistenza poi rotta e anche qui in coincidenza trend line dinamica e supporto statico su questo livello rottura retesta eccola qua e quindi a 283 come una area di possibile retest per un ingresso ribassista mettendo a roma questa è l'email per avere info per partecipare il programma sabato 15 giugno un saluto a tutti